buon ragazzi questo è il parlamento dietro di me il picchetto ora mentre questi girano da ore e ore e ore facendo questo movimento il pensiero della Betty è stato un po' le ha cacciato a un ventino che noia e i 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 E comunque c'è un zambino di Venezia anche qua dentro. Venezia, Stato. Quistis è ancora qua da oggi. Ma qualcuno mi spiega cosa c'entra Ronald Reagan? Esattamente dietro al Parlamento Ungherese. Grazie. 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 Grazie.